Proviamo, poi se... Eh, va bene, proviamo, se no buttiamo tutto in amore, diciamo bassi di in amore. Va bene, per cominciare le chiederei il suo nome e cognome. Allora, Antonio Vatta, sono nato a Zara il 24 marzo del 1935. E le chiederei un po' di parlarvi della sua famiglia, magari che origine ha, i suoi genitori? Eh, mia mamma ha origini slave, diciamo, è nata nel 3, 1903, e ha vissuto qui con me, al villaggio, diciamo, fino a 105 anni, 8 mesi, quindi vita lunga. Speriamo, diciamo, che dicono che si prende dalla genitrice, insomma, non tanto, perché, diciamo, è un po' troppo, io dico che è un po' troppo. Però lei ha vissuto bene, ha vissuto a casa, non voleva andare, cioè, io non voglio andare nessuna struttura, dico, morirai in casa, tranquilla, quando sarà il momento. E così una notte si è spenta e al mattino l'ho trovata, quindi mio papà è nato anche a Zara, quindi il cognome era, diciamo, di origini istriane, penso che i suoi origini erano istriane, però a Zara, forse sarà stato l'unico vata di Zara, diciamo, e mia mamma è nata, diciamo, nell'isola davanti a Zara, subito Ugliano, Ugliano, è nata lì, un bellissimo posto, ci sono andato qualche volta, ma è una meraviglia comunque, i nostri posti sono meravigliosi per noi, specialmente che ci siamo nati, diciamo, e lì si sono poi sposati e poi la vita. E cosa facevano i vostri genitori? Che lavoro facevano? Che lavoro facevano a Zara? Mio papà lavorava alla Sabri, alla Sabri era una fabbrica grande di peschereggi che, diciamo, scatolavano la carne per l'esercito, quindi lui era nel reparto dove facevano il ghiaccio e mi ricordo quando ero bambino gli portavo da mangiare e mi interessavo vedere come nasce il ghiaccio, diciamo, quindi a casa nostra il ghiaccio non mancava mai, quindi pesce, carne, perché poi scatolavano di tutto, ecco. Mia mamma ha lavorato da giovane nella fabbrica di Vlakov, di liquori, quando è venuta, diciamo, da Zara, perché lei ha perso la mamma che aveva nove anni e poi ha lavorato in campagna e venivano a Zara con la barca a fare il mercato, alla fossa famoso, diciamo, c'era il mercato proprio a Zara e poi a 16 anni aveva una sorella più anziana, e gli ha detto, ma tu non puoi fare più sta vita, vai dalla zia, la zia stava a Zara e così lei è venuta, poi ha trovato lavoro, diciamo, a Vlakov e lavorava, non so quanto tempo che ha lavorato lì, poi un giorno è arrivato il padrone che tramite uno che lavorava dentro cercavano una giardiniera, a fare giardino e lui ha detto, ma c'è questa ragazza che io la conosco dal paese, che è bravissima, diciamo, nell'orto, una cosa o l'altra, e poi ha fatto la giardiniera, i fiori li portava poi in piazza, diciamo, delle erbe a vendere tutti i giorni i fiori, perché ce n'erano tanti in quella fabbrica, e poi veniva e consegnava poi i soldi, ma mia mamma era furba, non aveva fatto tante scuole, mi sembra, fino alla terza elementare, però era molto, molto furba, aumentava il prezzo perché il padrone diceva, questo fiore costa tanto, questo tanto, e lei ci metteva un centesimo di qua, un centesimo di là, e poi gli consegnava quello che gli aspettava, e così si è fatta la dote, ma non è crescendo. E poi quando si è, quando non ha deciso, perché conosceva già mio padre quando erano giovani, perché anche mio padre abitava giù all'isola, e poi è stato adottato mio padre da una famiglia che aveva, avevano tanti terreni a Zara, però non potevano avere figli, e hanno adottato questo bambino, dopo di lui sono nati tre femmine e un maschio, si vede che ha portato qualche cosa alla fortuna, e allora si sono ritrovati poi a Zara, perché lui dopo il grande cielo è venuto anche lui a Zara, si sono trovati e poi una volta si diceva, succedeva come i paesi islamici, che ti destinano già con chi devi sposarti una cosa e l'altra, allora a casa della zia si sono riuniti dalla parte di mio padre, suo padre, quello adottivo, e la zia, il marito della zia, tutti in famiglia, e hanno cominciato a discutere che lei doveva sposarsi, e mia madre, era già femminista mia madre, no perché oggi ne parlano tanto, ma io ogni tanto lo racconto anche a scuola, anche queste cose, mia madre dice, ma dove è lo sposo? Allora dice, se qui non viene lo sposo, io non sposo nessuno, perché, no ma lo conosceva, no, perché è lui che deve dire che mi vuole sposare, non che voi dovete dire che io devo sposare lui, e allora sono partiti a cercarlo, dove era, non so dove era, in osteria, in Betola, di qua e di là, e l'hanno portato là, e allora lei ha detto, mi vuoi sposare? E lui ha detto, sì, e poi è lì, ha cominciato così, diciamo. Mia mamma raccontava sempre questa cosa così, era molto, molto severa mia madre, con noi, ma era anche dolce, mia madre non era tanto da fare con i bambini, tanto di dire caro, tesoro, come adesso si dice, così, quando aveva più di cento anni, forse sei, sette mesi prima di morire, mi chiamava Gioia, vieni qua, e poi dopo rideva, dice, ma non tu mi hai chiamato così in tutta la vita? e io ho detto, eh, perché stai per morire, no? Questo è quindi il ricordo della mamma e mio papà. E che ricorda invece della città, quando era crescendo, quando era città di stare? Ebbene, quando, diciamo, noi poi nel 43 abbiamo avuto i primi bombardamenti, diciamo, e quindi io avevo nel 43, facevo la seconda elementare, al 2 di novembre sono venuti a bombardare di notte, e per due ore andavano e venivano, andavano e venivano, hanno bombardato Zara. Oggi si gioca le partite in notturna, non sembra giorno. Ecco, io mi ricordo che tutta una volta si è illuminata tutta la città. Sembrava, noi ignoranti di quelle cose, si diceva, la città ha preso fuoco, la città ha preso fuoco. E mio papà che è arrivato a casa, dice, no, stanno buttando i razzi, fra poco bombarderanno. E così è successo. E hanno bombardato, la prima bomba che è caduta, è caduta sulla mia scuola. E facevo la seconda elementare. Quindi, primo ottobre a scuola, il 2 di novembre, non sono andato più a scuola. Voi pensate che una volta, prima elementare, ma anche all'inizio della seconda, si facevano solo le aste, i cerchietti, si riempivano le pagine così, no? E quando lo racconto a scuola, che dico, poi per una settimana, abbiamo fatto festa, non si va più a scuola, è una cosa o l'altra, i ragazzi ridono. Però dopo mi sono cominciato a preoccupare, dico, ma io rimanero ignorante, poi per tutta la vita, so solo fare le astine, i cerchietti, una cosa o l'altra, no? Questo mi è rimasto poi, mi ha creato l'amore della scuola. Ma tornando indietro, prima che succedesse questa nostra disgrazia, diciamo, della guerra, e chi l'ha anche dichiarata. Zara era una città, diciamo, c'era zona franca, tutta la provincia di Zara, zona franca vuol dire che non c'erano le Lugane, non c'era il Dazio, quindi era un benessere, diciamo, tutti lavoravano, venivano dall'Istria, venivano a fare contrabbando, perché zucchero, caffè, liquori, sigarette, costavano poco e niente, non c'era il Dazio, quindi i prezzi erano quelli lì. E' come la Svizzera, che era 60 anni fa, che si andava a fare contrabbando in Svizzera. E Zara, io mi ricordo quando ero bambino, quando si facevano, quando erano i patroni, e dovevo sapere che Zara aveva 5 patroni, Sant'Anastasia, perché c'erano 5 etnie a Zara, allora ogni etnia aveva il suo patrono, San Simon, c'era poi San Doimo, e poi c'era, adesso mi sfugge quello romano, romano, cavallo, diciamo, da militare romano, perché c'è, Zara è stata fondata dai Reduzzi Romani nel 33 a.C., quindi la storia era lunga. E quindi quando c'erano le feste, si festeggiava, però le più grandi feste erano quelle lì, Sant'Anastasia, San Donato, che ci sono ancora i resti di San Donato, della chiesa, dove ci sono i resti romani. Ma la più grande, la patrona era Santa Anastasia, che, diciamo, rappresentava gli Slavi, mi sembra Anastasia, e anche mia mamma si chiamava Anastasia, Maria, ma Anastasia era il primo nome, diciamo, e si facevano le grandi, si facevano le regate, facevano, si partivano con le barche, ogni borgo aveva la sua barca, i rematori, partivano sulla riva nuova e facevano tutto il giro, delle bove, e poi a un certo punto si buttava, uno si buttava in acqua, doveva raccogliere un cerchio che c'era in fondo al mare, insomma, e c'era una grande festa e mi ricordo sempre che si cantava, di solito il borgo dove stavo io, Barcagno, erano quelli che vincevano spesso e volentieri, e si cantava, dice, tutta Zara sa che Barcagno vincerà, ma le feste da noi, mia mamma mi raccontava sempre che anche sotto l'Austria e Ungheria, quando c'era Carnevale, che c'erano le feste, andavano a raccogliere coi sacchi le caramelle e tutta la roba che c'era per terra, perché è sempre stato benessere anche sotto l'Austria e Ungheria, perché ha mantenuto sempre le tradizioni veneziane e quindi era una città diciamo vivibile e molto culturale, a Zara hanno studiato tutti i più grandi, diciamo, Betiza e tutti questi studiavano a Zara, a Zara era la capitale della Dalmazia, quindi era molto importante. E le cose quando sono cambiate per voi? Dopo il primo bombardamento del 43, a dicembre Zara già si stava svuotando, perché poi hanno fatto il primo bombardamento a novembre e poi a dicembre c'è stato un altro bombardamento, o alla fine di novembre un altro bombardamento. Zara come territorio non era grande, era grande poi fuori magari alla provincia e i primi da Zara sul Sansego che era una nave hanno cominciato ad andare via proprio a dicembre del 43. poi nel 44 in primavera diciamo la riva era piena di masserizie che si portavano via tutto quanto noi. Mio papà lavorava poi in prefettura è andato in prefettura e quindi siamo rimasti là fino all'ultimo perché mia mamma non voleva andare via e poi alla fine invece al 30 di ottobre del 44 mio papà è arrivato a casa in bicicletta e dice dove è la mamma gli ho detto andata al mulino a macinare un po' di grano turco perché quel periodo non si trovava niente e noi eravamo un po' fuori avevamo un po' di campagna un po' di orto e quindi nell'orto qualche cosa cavoli e queste cose patate insomma si riusciva a raccogliere e gli dice valla a chiamare che andiamo via ah così è così non avevamo niente pronto prima avevamo prontato tutto poi avevamo sbarcato tutto perché non andiamo più via e insomma dovevo chiamarla abbiamo preso quello che c'era da da prendere in mano diciamo neanche la valigia in mano gli stracci che avevi addosso e siamo andati via e ci siamo imbarcati su un calciatore pediniere perché andava via la prefettura con tutta la prefettura tutti quei funzionari andavano via c'era l'ultimo l'ultima possibilità siamo imbarcati sul calciatore pediniere c'era il prefetto c'erano tutti quanti e quando ha fatto buio ci siamo incamminati per andare verso il fiume e mi ricordo quando siamo arrivati davanti all'isola di Pag Pago per noi ma Pag da terra hanno cominciato a sparare sulla nave e la nave ha cominciato rispondere e poi c'erano c'erano 3-4 max attorno delle zatteroni hanno buttato il fumogeno una cosa all'altra e siamo riusciti a passare e siamo arrivati a fiume diciamo e mi ricordo sempre che quelli i soldati i marinai è venuto giù il capo canoniere quello lì dice stare tranquilli se succede qualche cosa i primi a essere salvagenti ci hanno messo tutto ma noi ragazzi avevo 9 anni e mezzo quindi quasi 10 anni poi c'erano quelli più piccoli aveva una sorella di 17 anni che era già grande per noi era una cosa nuova essere su una nave da guerra ecco e siamo andati a fiume a fiume siamo arrivati poi al mattino dopo e ci hanno e ci hanno dato i tedeschi siamo stati prima in una caserma in via Roma a fiume dove c'erano i militari della milizia ci hanno messo lì un po' di giorni e poi ci hanno trovato in via 30 ottobre un alloggio vuoto e ci hanno dato le chiavi dice questa è casa vostra e tutto c'era di tutto solo mangiare hanno lasciato tutto io in quel momento non ho mai pensato niente ma dopo crescendo non tanto tempo molto tempo dopo ho cominciato a pensare ma chi viveva in quella casa allora ho legato sicuro erano gli ebrei che sono stati portati via ci hanno lasciato la casa noi siamo stati a fiume circa sette mesi altri bombardamenti i rifugi erano abbastanza solidi sotto la montagna e quindi non c'era sto rischio e una cosa l'altra poi a un certo punto tornando indietro dico che il 30 di ottobre siamo andati via Zara è stata la Seata diciamo e al 31 sono arrivati poi i partigiani di Tito sono entrati a a Zara ecco quello che a Zara sono rimasti ci sono stati fatti degli accordi perché le guerre sono un po' così meschine diciamo gli accordi sono stati fatti che rimanevano tra carabinieri e finanzieri circa 200 persone che non succeda perché a Zara sono rimasti due o tre mila zaratini che non succedesse niente una cosa l'altra ebbene il 2 di novembre tutti quanti sono stati poi fucilati annegati buttati nel pozzo di carabinieri e io un giorno parlando qui a Torino con il comandante della caserma dove eravamo noi ospiti porco San Paolo gli raccontavo questa storia e lui mi ha detto sì è vero negli anali dei carabinieri c'è scritto proprio così diciamo la guerra succede di questo e di più succedono anche cose belle nella guerra ecco perché io non so se raccontarlo adesso o dopo ecco perché un fatto che è successo che mio padre poi per venire in Italia perché noi poi da fiume dopo sette mesi siamo andati a Trieste perché mio padre però non poteva venire a Trieste perché era sotto la prefettura ecco poi quando ha cercato di passare confine nel bosco una cosa l'altra è stato fatto prigioniero e allora li hanno trovato là e lui parlava crovato da bambino noi in casa parlavamo crovato con la mamma e tra di noi si parlava crovato e dice tu cosa fai qua e dice volevo andare a Trieste perché c'è la famiglia a Trieste no? di dove viene da Zara e va bene dice guarda noi stiamo andando verso Zara vieni con noi se sei a posto ecco verificheremo una cosa l'altra e allora tra tra una tragedia e l'altra dormire nei cimiteri una cosa l'altra le paure e tutto quanto sono arrivati a Susac a fiume e lì c'erano tutti i prigionieri erano tutti i prigionieri là e in quello questo che comandava questo questo gruppo diciamo di partiziani che portavano questi prigionieri diceva guarda là c'è una tua paesana quella lì una Zaratina mio padre quando l'ha vista è rimasto un po' allibito dice se questa dirà che io lavoravo in prefettura perché allora la prefettura vuol dire che erano fascisti che erano questo quello uno lavorava in prefettura come un altro e quando lei l'ha visto che è venuta vicino oh sì cacottie una cosa l'altra come c'è a parlare allora questo qui gli dice ma lo conosci e come no abbiamo fatto le scuole assieme so che c'è la famiglia a Trieste e ha detto le cose che lui non le ha suggerite ma lei l'ha detto perché sapevano che eravamo a Trieste e ci conoscevano stava vicino a noi stava questa qui allora lui ha detto boh 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 dice mettiti là mettiti là con quel gruppo è il primo treno che va a Udine ti imbarchiamo allora per dire nel mondo non sono tutti cattivi ci sono anche cose di gente che ha cuore che ha insomma ecco questo è un fatto che lo racconto volentieri io mi ricordo che scrivevo una volta quando ero all'inizio a Trieste perché avevo scritto qualche cosa contro l'associazione là allora una mi ha scritto perché aveva il padre che è sparito non è più tornato che io sono comunista che sono questo che sono quell'altro contro le drugarice le drugarice erano cattive una cosa all'altra allora io gli ho scritto una bella lettera e gli ho spiegato tutto questo gli ho detto mi dispiace che tuo padre ha fatto questa fine mio padre per volontà del signore o non so così è morto nel letto aveva 42 anni però a Mando è morto nel letto diciamo si è ammalato magari le spaventi una cosa all'altra comunque è morto però è morto a letto quindi è morto con la sua famiglia e gli ho detto non sono poi tutti cattivi diciamo nel mondo c'è gente brava gente cattiva e poi le circostanze ti portano a fare certe cose così questo diciamo siamo arrivati poi a Trieste siamo andati ci hanno mandato a Udine c'era Udine e a Udine sì perché ci spostavano siamo stati io ho vissuto i famosi 40 giorni di occupazione di Tito ho vissuto a Trieste avevo 10 anni ero uno scugnizzo perché ero nel porto sempre a cercare da mangiare portare a casa qualche cosa e si ricorda qualcosa di questa occupazione sì come no mi ricordo il combattimento prima che c'è stato contro diciamo al 30 di di aprile Trieste è stata liberata diciamo da dai vigili di Trieste dai finanzieri una cosa l'altra dal CLN Istriano e una cosa lì e si combatteva sulle strade noi eravamo la scuola Kandler la scuola Kandler eravamo non so quante famiglie che eravamo ospiti di là e una sera e passavano tutte le sere nelle scuole dove c'erano gente che veniva che venivano dall'Ista dal Flume dalla Dalmanzia e via dicendo venivano a controllare se c'era qualche ogni tanto spariva qualche uomo che veniva a trovare la moglie o uno che veniva a trovare un figlio veniva a trovare la madre e sparivano e si è presentato in due dentro una stanzone dove eravamo io ero a letto è arrivato uno vicino io dormivo e mi ha scoperchiato e lui ha le digni se doji zanami questa bustina con la stella rosa io l'ho guardato e gli ho detto ma guarda che io ho dieci anni dico nel 45 sono nato a marzo quindi nel 35 ora che io ho dieci anni no no doji zanami allora poi ero ero robusto io ero cresciuto abbastanza fino a dieci anni poi mi sono un po' rallentato e mostravo perché ero già bello diciamo robusto ecco e poi le donne mia madre tutte parlavano tutte croate c'era Fiumana c'era quell'altra e hanno cominciato a dire ma cosa fai scherzi dice ragazzino questo qui poi si è convinto no vabbè magari l'ha fatto apposta per spaventare no perché sa che loro avevano bisogno ogni tanto di scherzare un pochettino di fare i duri e niente così siamo andati a Udine e siamo andati a Udine su un camion militare tutto aperto siamo arrivati a Udine la caserma lì ci hanno disinfettato col DDT tutti perché tutti lì c'erano posto di passaggio Udine arrivavano i militari arrivavano i profughi arrivavano tutti col DDT che poi l'hanno tolto via perché era cancerogeno pensi che noi arrivavamo tutto perché non c'era l'igiene non c'era l'acqua non c'era il sapone ma acqua ce n'era magari andavamo a fare il bagno al mare ma sapone non c'era non trovavi mi ricordo che si faceva il sapone in casa con la soda caustica e con altri additivi che si mettevano dentro si faceva una cosa molle e ci si lavava con quello quindi pidocchi eravamo pieni di tutto e ci hanno disinfettato ci hanno liberato dopo un po' di giorni dicevi dovete proseguire per andare via da Udine e noi ci siamo ribellati tutti io avevo già dieci anni mia sorella aveva 17 anni e mia madre abbiamo detto noi di qua non andiamo via perché sappiamo che nostro padre è prigioniero perché abbiamo poi sentito che era prigioniero e ha detto devi passare di qua sei vivo passa di qua e siamo stati là e un giorno ero nel campo sportivo a Udine ci hanno messo in un oratorio di suore una cosa all'altra c'era altra gente nostra e mentre guardavo giocare al pallone mi sono girato distinto si vede che mi sentivo telepatia dietro così mi sono girato questo mio padre questa barba lunga ho pianto tanto e siamo ritrovati siamo stati un po' di tempo lì a Udine e poi ci hanno mandato a Padova a Chiesa Nuova e Chiesa Nuova il campo di Chiesa Nuova a Padova era anche un campo di concentramento che c'erano tanti gli italiani avevano deportato slavi dopo che hanno fatto l'occupazione del 1941 e c'era un campo proprio di e poi si è svuotato e ci hanno messo noi dentro ci siamo stati ho cominciato ad andare a scuola la seconda elementare quindi avevo già quasi 15 anni a ottobre primo ottobre a scuola con questi ragazzini che facevano la seconda io grande e grosso sono maro però ho detto devo andare a scuola sono andato a scuola la seconda elementare ho fatto la terza lì a Padova poi e poi da Padova hanno chiuso il campo perché gli inglesi volevano occupare quella caserma perché ce n'era già una caserma a Padova ma volevano dividere comunque c'era la scelta di andare o a Mantua o a Tortona Tortona che era un grande campo profughi Tortona e Novare qui in Piemonte noi abbiamo scelto di andare a Mantua mio papà era lavorava poi da cuoco in cucina perché lui piaceva sempre cucinare e ha cucinato poi siamo andati a Mantua e quando siamo arrivati a Mantua c'era periodo sotto le elezioni arrivano i fascisti se vengono i fascisti a Mantua perché 1500 persone che arrivano avevano paura che scombussoli poi diciamo l'equilibrio che c'erano prima e la prefettura ha dato le armi a tutti i giovani diciamo in età maggiorenni e gli uomini proprio armati perché c'era a rischio perché lì Mantua era una provincia rossa ma rossa adesso quel rosso non c'è più abbiamo il rosso sì però diciamo col covid e li hanno armati c'è stata la ronda tutta la notte e poi la domenica c'è stato le elezioni lunedì lo spoglio e i mantuvani di canto si sono accorti che non si è spostato di una virgola le percentali che c'erano prima allora hanno cominciato a dire ma allora questi non sono fascisti tutti fascisti noi rappresentevamo l'arco costituzionale come sempre voi dovete capire che l'Istia è sempre stata socialista dei tempi dei tempi sempre l'Istia e allora hanno cominciato a venire nel campo perché nel campo i profughi la prima cosa che si faceva la chiesa la scuola sala da ballo e il campo sportivo per giocare e allora si è cominciato ad entrare dentro ci sono stati dei matrimoni una cosa o l'altra con i mantovani mia sorella poi c'era uno della questura che facevano c'era la questura tutto il giorno c'era il piantone lì che stavano attenti perché all'inizio alla sera chiudevano il portone perché si aveva paura poi dopo invece rimaneva aperto chi entrava che non era si è innamorata di un questurino che da Ponza bellissima l'isola della Ponza sono stato due volte con lui si è sposata con e così da Mantua siamo stati fino al l'hanno chiuso questo campo nel frattempo noi avevamo la possibilità di andare anche nei collegi perché non è stato raccontato qui che noi avevamo è nato il Tomaseo c'era la scuola a Roma c'era la casa della bambina che tutte le bambine potevano andare mia sorella quella più piccola del 40 è andata c'era un grande fabbricato che era c'erano c'erano diversi posti è passato uno della della direzione del campo e dice chi vuole andare in collegio e io ho detto io perché la scuola mi è rimasta sempre nella testa la mancanza della scuola perché poi ho fatto sono andato in collegio e facevo la quinta elementare ancora quella lì quindi siamo andati a maggio perché mi ricordo che eravamo lì che è successa la tragedia il 4 maggio la tragedia di Superga e dopo 15 giorni è arrivato un signore sempre dalla direzione e dice di prepararsi perché lunedì si parte e si va in collegio mia madre dice cos'è sto collegio dice mia madre non sapeva niente io non ho detto niente a mia madre e gli ho detto sì perché io vado in collegio perché voglio andare a scuola avanti fare le medie e finire le medie ma qua insomma io sono andato in collegio e con me sono venuti altri tre ragazzi più o meno della mia età siamo andati in collegio a Via Dana a 40 chilometri da da Manto siamo andati che era il confine tra l'Emilia di là dal ponte c'era Brescello Boreto famose sono andato in collegio lì e sono stato tre anni lì in collegio nel frattempo la mia famiglia come tutti quelli del campo di Mantova dovevano liberarlo e ci volevano mandare a Catania io mi ricordo ancora perché eravamo ancora o ero arrivato o venivo a casa per le vacanze non lo so ci volevano mandare a Catania per andare a Catania e noi ci siamo ribellati io ho visto la prima volta una ribellione ma pacifica con chitarra e mandolino e col canto a cantare sulla romanza della Capinera no? avevamo un maestro che era polesano di pianoforte poi avevamo due fratelli Martechini di Zara che suonavano il mandolino e hanno composto sta romanza su questa aria della Capinera e l'abbiamo imparata in due giorni tutti quanti tutti quanti davanti alla direzione a cantare dice oggi c'è il 30 or su se volete che ve la canto ma non ve la canto ovviamente oggi c'è il 30 or su ve ci putte i ragazzi andiamo a ciappare su le nostre quattro straze e quando l'alpa spunterà se troveremo in strada morbino mancherà se faremo una ridada poi è lunga ma alla fine dice e ringraziamo assai prefetto e prefettura non scorderemo mai sta bella fregatura cioè questa qui era direttata io l'ho cantata anche il prefetto di Torino una volta rideva come un ma cioè ecco la nostra rimostranza qual'era diciamo perché noi siamo molto canterini dalla nostra parte perché siamo stati bastonati per 700 anni dai veneziani dagli austriaci da diciamo anche diciamo da 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 Tito diciamo bastonati nel senso quello che abbiamo subito cioè poi ricordatevi che noi abbiamo optato per andare via perché quando qualcuno dice siete scacciati via cioè vi hanno scacciato via non è che ci hanno scacciato col fucile devi andare via rimani qui diventi cittadino jugoslavo se vuoi andare via devi optare firmare che vai via no e quando firmavi per andare via perdevi tutti i diritti di lavoro una cosa l'altra beh bene questo capita niente niente di grave no quindi io lo racconto sempre perché qualcuno dice siete siete stati scacciati no siamo andati via di nostra volontà perché volevamo mantenere la nostra cittadinanza immaginare la nazionalità perché cittadinanza uno la acquisisse come è stato detto dove vai prendi la cittadinanza ma la nazionalità no perché noi italiani siamo diventati l'ha detto già a Bracus dopo noi a Zara dopo la guerra del 15-18 perché prima eravamo veneziani siamo stati 120 anni austriaci poi siamo prima eravamo 700 anni veneziani la nostra cultura era veneziana quindi volevamo mantenere questa cultura e visto che abbiamo acquisito la nazionalità volevamo mantenere quella nazionalità ecco questo era diciamo poi da io ho fatto tre anni poi a Via Dana mia famiglia è venuta a Torino la mamma con i bambini e io quando poi nel frattempo voglio dire che mio fratello quello più piccolo che faceva l'allenatore delle giovanili del Torino della primavera del Torino è stato anche nazionale femminile ha fatto tre anni nel Lazio giovanile quindi è stato poi vi regalo le regalo un allenatore dei sogni che è molto un DVD che abbiamo fatto come associazione come regione Piemonte sul suo lavoro che facciamo molto istruttivo questo DVD è stato premiato tra i dieci a New York tra i migliori dieci diciamo DVD che dicono delle cose molto profonde è stato girato da mio nipote come regista col Film Commission l'abbiamo fatto col Film Commission e il suo fratello ha fatto la musica l'accompagnamento per dire lui era sempre legato a me era due anni due anni e mezzo più giovane io ce l'avevo sempre dietro quindi io sono andato al collegio dopo un po' arriva anche lui ce l'avevo sempre dietro le branche niente siamo siamo arrivati a Torino poi la mia famiglia a Torino io sono arrivato il primo luglio del 51 i miei sono arrivati aprile già nel 51 a luglio il primo luglio quindi questo mese così siamo arrivati a Torino nelle casermette di Borgo San Paolo mi ricordo sempre quando sono arrivato che aspettavo il pulmo per andare alle casermette di Borgo San Paolo in via Veglia 44 e sentivo parlare qua piemontese e ho detto ma dove siamo in Francia qua perché pareiti quella cadenza un po' logico hanno preso dai Savoia il francesismo e una cosa l'altra e abbiamo vissuto le casermette diciamo finché non siamo venuti poi in queste che non hanno costruito una legge del 52 che costruivano le case per chiudere tutti questi campi e con le casermette ve l'hanno già raccontato come si viveva nelle casermette dei casermoni dove stavano tre o quattro famiglie a seconda quante persone erano in una famiglia con le coperte divisori con le coperte e una cosa all'altra si mangiava e diciamo da mangiare non ci mancava perché bisognava accontentarsi quello che c'era mentre fuori io parto già da da Trieste da da Udine da Padua da Mantua insomma tutti i campi profughi c'era la cucina anche a Torino c'era la cucina quindi il mangiare il mangiare non ci mancava e poi vorrei dire che siamo stati trattati male io mi ricordo che a Mantua che eravamo già ragazzi giovani andavamo in 6-7 in città perché eravamo fuori perché noi le caserme erano tutte un po' fuori dalla città e si andava in cinema e si raccoglieva qualche spicciolo che si aveva qua e là si andava al cinema e avevamo uno Iciglio Lorenzini che mi ricordo sempre che era un po' più anziano di noi ma era uno sveglio si metteva là vicino la cassa magari se c'era la cassiera cominciava a fare il filo e dice siamo profughi siamo così siamo qua e dice vorremmo andare a vedere il cinema ma non abbiamo tanti soldi insomma raccontava raccontava allora fino alla fine diceva va bene fate almeno due biglietti e va bene tirava fuori i soldi e poi dice ma ci lasci almeno questo che compriamo due sigarette insomma e si riusciva a fare così e si andava quindi ma dappertutto succedeva così non è che eravamo sì sono successi degli episodi io mi ricordo che mia moglie mi contava che lavorava alla superga quando era ragazza una volta e donne la superga era dove facevano le scarpe superga sui fornelli i calli che mettevano la tomaia e via con i calli sopra bruciate le mani e sono andate in bagno una gli dice voi siete venuti mangiarci il pane qua e una cosa l'altra mia moglie l'ha presa per i capelli l'ha messa la testa nel water dentro davvero è successo una cosa l'altra e poi si è messo a gridare poi è arrivato il direttore una cosa l'altra tutta in direzione e cosa è successo e mia moglie gli ha detto ma eravamo lì con queste mani tutte bruciacchiate perché lì era bolenta quella stampo e mi dice che sono venuto a mangiare il suo pane e gli ho detto mi sono arrabbiata e gli ha detto lei va dal suo posto di lavoro e all'altra gli ha dato tre giorni di sospensione l'altra tre giorni di sospensione e come diceva poi Bracus raccontava la stessa cosa e dice è che non succeda più perché se no il posto di lavoro ti salta e gli ha detto un po' di tutto e succedevano noi magari ragazzi noi che eravamo già più grandi ci sapevamo difendere ma le donne magari si mettevano a piangere c'era quella che reagiva però all'inizio c'era questa cosa diciamo mia moglie era anche profonda di lei? mia moglie era di fiume fiumana di fiume e volevo anche dire una cosa poi mi è passata dalla testa ricollegandoci a queste cose che succedevano ecco io a 18 anni poi che sono diventato maggiorenne ho fatto domanda di andare alla Fiat e mi hanno assunto no mi ha assunto facevo le scuole Fiat di Battilastra ho fatto un anno a Battilastra e poi sono andato là dal direttore e ho detto ma io ho quattro fratelli a casa con la mamma 27 lire al giorno mi davano per il pullman campo prof una cosa o l'altra ma io voglio andare a lavorare e mi ha detto ma non hai ancora 18 anni e va bene ma fra poco ne compio e va bene fai la domanda e ho fatto la domanda e mi hanno mandato in fonderia fonderia Mirafiori diciamo ho fatto 10 anni di fonderia Mirafiori poi siamo venuti in queste case e allora ho cercato di fare avvicinamento e sono andato a lavorare alla Missling ho lavorato 25-26 anni alla Missling Dora a Torino con il papà di Braccus proprio avevamo stesso reparto dove si convenzionava le gomme e una cosa l'altra e poi lo dico ma oggi dire che a 54 anni sono andato in pensione perché avevo maturato i famosi 35 anni ne ho fatto 36 e mezzo poi dopo sono andato in pensione e quindi mi sono messo poi nell'associazione perché è stato detto che i nostri non seguivano perché perché noi giovani si lavorava come tutti quanti non c'era pensiero dell'associazione poi non avevamo è stato detto che magari quelli che erano già più grandi gli anziani ci aiutavano a entrare nell'associazione a me una volta che sono andato per scrivere l'associazione mi è stato detto uno mi ha detto va mi dico un po' del circolo quando ha iniziato a interessarsi all'associazione ecco noi ci siamo poi c'era il comitato inquilini qua già perché c'era il comitato inquilini dove che si facevano le lotte per avere anche miglioramento qui c'era la centrale si controllava del gasolio una cosa l'altra e poi quando siamo subentrati noi come unione regionale profughi siamo andati da un notaio e ci siamo costituiti come unione come c'è la scritta unione regionale profughi e rimpatriati italiani perché rappresentavamo tutti e non c'era ancora l'associazione e poi nel frattempo dopo un po' di tempo avevamo un'associazione che era in città ed era tutto di notabili il dottore il professore l'avvocato e quindi eravamo i marginati non si poteva entrare dentro allora facevano le riunioni lungo il poli dove c'era dove c'erano tutti gli artisti e una cosa l'altra logico che questo allontana no? questo allontana non c'è partecipazione e questa che era la 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 che era la presidente di questo comitato è venuta qui e ci ha portato tutti i documenti e ci ha chiesto se volevamo continuare noi e noi abbiamo detto di sì e abbiamo continuato questa cosa nel frattempo noi si lavorava su delle leggi vecchie perché avevamo delle persone che nel comitato inquilini si interessavano delle leggi che c'erano che ci davano diciamo delle cose e allora noi abbiamo cominciato a leggere a studiare andare da da qualche avvocato andare da un giurista a vedere abbiamo trovato una legge del la 2 la 2 3 1 che diceva che noi dovevamo ricevere una raccomandata una raccomandata per acquistare non per acquistare per riscattare gli alloggi in 25 anni pagando l'affitto che si stava pagando e allora qualcuno ci ha detto noi abbiamo detto o qualcuno ci ha detto ma noi non abbiamo mai ricevuto questa raccomandata e allora dice si può si può intervenire ora per allora e allora abbiamo cominciato a raccogliere documenti e siamo andati da uno onorevole Botta Beppe Botta che era della democrazia cristiana in via Cernaia sono andato io e il mio collega Aquilante che era il presidente dell'associazione a quel tempo e il papà di Bracus anche siamo andati via Cernaia al suo ufficio abbiamo portato i documenti e lui ha detto lasciatemi tutto qui venite prossima settimana prossima settimana siamo tornati da lui e lui dice guardate voi avete ragione però se andate per vie legali ci impastiamo in un tribunale che fra vent'anni siamo ancora qui a discutere fare così qui bisognerebbe fare una legge lui ha detto io ho fatto poche scuole ho fatto terzo avviamento agrario però sono sempre stato veloce a ragionare io ho detto onorevole siamo qui seduti qui facciamola e l'abbiamo fatta là l'istante abbiamo fatto un piccolo dice che tutti i profughi della legge possono comprare acquistare l'alloggio al 50% del costo di costruzione come cita da 2-3-1 è una cosa questa leggina portava tutta questa cosa così abbiamo trovato una parlamentare che si è presa la briga che era di Trieste ma era origine istriana anche la Vascon che si è preso la briga di fare di presentarla diciamo poi in Parlamento e l'ha presentata in Parlamento ed è stata votata e noi abbiamo cominciato la trafila che poi non è finita tutta lì perché poi il direttore generale Patanè ci ha bloccato il tutto avevamo già i bollettini per andare a pagare e ci ha fermato tutto dice io non posso vendere queste case a quel prezzo il 50% del costo di costruzione e quindi negli anni 50 e dice come faccio io costruire altre case aveva anche ragione e allora noi cosa facciamo andiamo di nuovo da questo onorevole vogliamo avere un incontro con come si chiamava era il ministro delle finanze e il ministro delle finanze è un incontro ed è venuto il suo il vice il suo segretario cioè il vice 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 ministro è venuto vice ministro col direttore Patanè e lui dice benedetti ragazzi se voi facevate al fondo ma ce l'hai con me se voi al fondo scrivate al momento dell'assegnazione stessa dell'alloggio io vi regalo le case è finito e io subito pronto gli dico ma qui c'è il sottosegretario c'è lei facciamolo questa cosa così abbiamo aggiunto questa cosa e poi è andata in Parlamento è stata votata e abbiamo riscattato queste case ma voglio raccontare questo ma voi avete fatto una legge solo per i dalmat istriani i fiuani no io ho detto ma come si permette di dire direttore una cosa del genere lei pensi che noi siamo in campo profughi da anni io ho fatto 12 anni di campo profughi con gente che veniva dalla Libia gente che veniva dalla Tunisia dalla Romania avevamo gente che era in Romania anche qui profuga dalla Libia greci dalla Grecia sono venuti qua e lei pensa che noi facciamo una legge solo per noi guarda che sono sono tutti con noi e allora lui dice dopo un po' dice ah si e dice anche io sono profugo della Libia io l'avrei fulminato l'avrei fulminato ci ha messo la prova no la vita questo qui credeva che noi siamo sproveduti abbiamo lavorato 40 anni nelle fabbriche ci siamo un po' anche abituati alle lotte come dicevano abbiamo fatto tutte le lotte e i campo profughi si imparano tante cose noi non abbiamo fatto l'università ma l'università della vita l'abbiamo fatta noi ci devono dare la laurea dell'università e quindi abbiamo cominciato a distribuire questi poi non ve la racconto tanto perché poi avevamo altri ostacoli altre cose però l'abbiamo superato e tutte finché nel 97 abbiamo cominciato a fare le prime vendite 50% del costo di costruzione una loggia che costava 1400 euro all'origine e l'abbiamo comprato a 700 diciamo 800 mila lire l'hanno comprato con 400 euro poi l'alloggio quindi con tutto ciò la gente non è mai l'ingratitudine l'ultima a morire c'è gente ingrata che ti sputa magari addosso anche di quello che hai fatto e quindi abbiamo abbiamo fatto tutto questo abbiamo cominciato a fare le vendite abbiamo fatto circa 450 vendite davanti al notaio io Aquilante sempre presenti a tutte le vendite sempre lì perché poi c'era a questo gli mancava perché non aveva la qualifica di profugo ma questo è stato era la come era non la carita c'era la l'ECA era un ente comunale di assistenza l'ECA aveva il timbro sul libretto ECA allora abbiamo fatto mettere la qualità non solo la qualifica di profugo perché noi abbiamo tutti una qualifica che ci ha rilassato il campo profugo della prefettura allora anche l'ECA aveva un certo valore poi uno ci mancava una virgola un altro mancava una CH e una cosa l'altra insomma e noi lì con i notaia a discutere col demanio perché poi il demanio che vendeva queste case e poi abbiamo fatto anche una legge regionale che abbiamo venduto anche le case perché questo questo primo gruppo di case erano dell'articolo 18 costruite con diciamo con i soldi dello Stato 100% poi con l'articolo 17 sono state costruite case con diciamo con una parte dello Stato e una parte diciamo della della regione e loro non ci volevano diciamo dare soddisfazione su questo articolo 17 siamo andati avanti per gli anni finché abbiamo fatto una legge regionale che poi è diventata legge dello Stato e una cosa e l'altra abbiamo adesso siamo ancora stiamo vendendo delle case circa 196 case ma la maggior parte avevano già venduto qui 450 poi la legge anche se qualcuno di qua ci diceva io vi racconto tutto perché poi voi tagliate quello che volete ci diceva ma cosa cosa ne interessa a noi degli altri perché poi non avremo neanche noi l'egoismo della gente e noi ha detto no se l'abbiamo noi ci devono avere tutta l'Italia questa cosa deve andare in tutta l'Italia ed è così è fatto abbiamo vinto noi l'abbiamo portata in tutta l'Italia io a Quillante siamo stati prima di tutto in Piemonte quindi Novara Tortona Alessandria dove c'erano i grandi concentramenti di profughi poi siamo stati a Roma a Firenze a Cremona a Genova a Carara dove che ci chiamavano portavamo i documenti a spiegare come si fa come non si fa e tanti venivano qui a Torino un giorno per capire per fare quindi mi sembra 14.000 alloggi in tutta tutta l'Italia sono stati venduti diciamo con questa legge quindi io mi sento orgoglioso di aver fatto questo lavoro questo lavoro poi non è finita lì perché questo circolo avete visto come era qui ci sono ancora delle pompe per il teleriscaldamento perché poi nell'80 è nato il teleriscaldamento quindi noi siamo stati i primi per il teleriscaldamento a Torino le valette e noi qui questo quartiere e quell'altro quartiere il nostro si bruciava gasolio una cosa quando è venuto il teleriscaldamento nell'80 questa parte qui è stata abbandonata quindi qui c'era già rischio di magari quella volta non c'era tanta droga che girava ma comunque quando abbiamo acquistato gli alloggi siamo andati all'azienda elettrica municipale e abbiamo detto e allora dico adesso noi siamo proprietari di questo e voi proprietari io ho detto guarda veniamo io e mio socio veniamo con le ruspe vi portiamo via tutte le pompe che ci sono dentro abbiamo coraggio allora loro ho detto ci vediamo un'altra settimana la solita cosa allora loro hanno scritto alle case popolari gli ACP quella volta c'erano gli ACP poi hanno dato l'ATC l'agenzia territoriale per la casa e l'ATC gli ha detto ma dice le case sono del demanio rivolgetevi al demanio allora si sono rivolti al demanio e il demanio gli dice ma loro stanno comprando le case quindi sono proprietari i millesimi sono proprietari diciamo anche della centrale i millesimi e allora ci hanno chiamato hanno detto cosa quanto volete noi noi non vogliamo soldi noi vogliamo opere e cosa volete e noi avevamo già già preparato cosa volevamo volevamo che sia bonificata tutta sta roba che sia portati via quei tre pustoni da 100.000 litri cada uno quindi l'hanno prima diciamo messi in ordine che non richino diciamo inquinamenti di qua e di là bonificato e poi ci hanno fatto la saletta ci hanno ricostruito ci hanno buttato qui c'era un attore una ciminiera quella lì che c'è lì l'hanno fatta brillare giù sono venuti da Parma dei brillatori che fanno questo lavoro e abbiamo fatto questo circolo e a ottobre del del 1997 abbiamo cominciato a vivere qui dentro poi poi l'abbiamo proprio inaugurato nel 1998 diciamo e questo è il lavoro che abbiamo fatto il lavoro che stiamo facendo quindi abbiamo dato come diceva Egidio tanti che erano fuori tanta gente abbiamo fatto un bando non volevano fare perché la prefettura diceva non aspetta noi case popolari dicevano non aspetta noi demanio non aspetta noi cioè nessuno e allora abbiamo fatto una riunione con tutti quanti e abbiamo deciso qualcuno la deve fare allora c'è una legge che dice che quando il demanio ha dismesso quelle case che sono rimaste diciamo che non erano state acquistate perché poi c'è una storia che non ve la racconto perché poi viene troppo lunga e quando quando è successo questa cosa così il demanio ha detto io di queste case non ne voglio non voglio più sentire niente quindi noi abbiamo preso in mano questa cosa e l'abbiamo portata avanti diciamo e siamo arrivati a fare poi queste leggi regionali e queste cose così abbiamo soddisfatto tanta gente abbiamo fatto un bando per assegnazioni che anche stavo dicendo che anche Egilio Egilio è entrato dentro e 96 persone quindi sono venute perché poi qui quando che nel 70 è passato sono nate le regioni 70-75 l'amministrazione è passata alle regioni ma non la proprietà allora la regione l'ATC che diciamo c'è il presidente che viene nominato dalla regione una cosa l'altra hanno pensato che sono padroni di queste case allora nel sociale se uno supera un canone l'equo canone viene mandato via non ha titolo di abitare là hanno cominciato questo prima che noi entrassimo nell'associazione c'era il comitato però loro non si interessavano 60 famiglie sono state mandate via hanno dovuto lasciare casa questa casa queste erano assegnazioni definitive ci sono le leggi noi abbiamo tirato fuori i demoscari signori queste sono definitive vuol dire per sempre non sono regionali questo non c'entra la regione non c'entra il canone poi abbiamo fatto una lotta per il canone insomma li abbiamo portati in tribunale le case popolari e quando sono arrivati davanti abbiamo un avvocato che un avvocato donna che ha i marroni così ancora oggi è il nostro avvocato e ha portato tutta la documentazione che abbiamo portato quindi lo studio dal piazza che è famoso in Italia è famoso questo avvocato e quando sono presentati davanti al giudice gli ha detto ma voi cosa avete ma qui hanno una montagna di documenti e diceva voi non avete niente e gli ha detto vi consiglio di mettervi d'accordo con con l'associazione con la controparte perché sono qui pagate pagate e pagate e allora ci hanno detto siamo trovati con è stata commissariata quella volta poi le case popolari perché ci sono state delle cose poco pulite commissariata poi c'erano i due commissari con loro abbiamo fatto questa cosa abbiamo fatto le nostre richieste noi ci eravamo anche avevamo smesso di pagare l'affitto per rimostranza eravamo in tanti poi ci siamo trovati in pochi perché poi ognuno aveva paura che lo mandano via esidio no esidio no siamo rimasti in pochi però l'abbiamo vinta abbiamo vinta ci hanno dato tutto quello che abbiamo chiesto tutto tutto perfino soldi indietro che aveva pagato delle cose e via dicendo siamo riusciti a portare dentro dei nipoti che erano stati mandati via perché quando moriva il titolare e dicevano che i figli non avevano diritto ma noi abbiamo detto ma scusate nel codice civile fino alla terza generazione c'è il titolo c'è il diritto ma noi ci venite a raccontare noi siamo ignoranti di queste cose ma abbiamo studiato ma noi abbiamo studiato queste carte documenti noi tutto il giorno lasciavamo le famiglie indietro ma ci siamo applicati a quello e per quello dobbiamo poi ringraziare anche io poi ho perso la moglie nel diciamo nel 72 poi ho una compagna adesso ho 30 anni che siamo insieme che mi sopporta perché poi tutta la vita di questa cosa l'ha subita lei non si andava in giro per le città a lei lì c'è a casa sua quindi stava a casa sua tranquilla no però le nostre famiglie hanno anche subito questa cosa ma dappertutto io ascoltavo l'altro giorno anche la nostra nazionale che ha vinto gli europei cosa dicevano i giocatori grazie anche alle nostre famiglie perché se non ti supporta la famiglia perché uno va in campo o va al lavoro o dove va va se non c'è pace in famiglia si lavora male sei sempre nervoso non ti concentri una cosa l'altra e queste cose ce le avevamo noi ma noi eravamo due che eravamo duri pensate che io e Aquilante siamo nati il 24 marzo tutti e due otto anni di differenza lui è più giovane ma stesso giorno e stesso mese siamo nati quindi c'era qualche cosa da arieti che avevamo due arieti che sfondavano che ore sono facciamo il tempo a fare magari le faccio un paio di domande tieni tieni ma più sotto meno un po' d'aria un po' fa no le volevo chiedere magari tante cose perché parto dall'inizio le volevo chiedere magari intanto per lei diceva appunto che studiava l'importanza della scuola volevo chiederle se ha avuto possibilità magari di parlare della sua storia magari nelle scuole o sempre con le generazioni di ragazzi io tutti gli anni 5-6 scuole licei istituti medie di solito medie e quinta elementare si fanno assieme tante volte adesso abbiamo fatto online questo questo periodo con diverse scuole l'ho fatto con i comuni ma con le scuole l'ho fatto ma quando era in presenza provincia siamo andati in tutte le province tutte queste che sono attorno avevamo 200 ragazzi io ho anche le foto da qualche parte diciamo con le scuole gli insegnanti ci dicono sempre poi la fine ma come fate a rabbonire i ragazzi che noi non riusciamo siamo stati in un paese vicino vicino a Asti giù da quelle parti non mi ricordo bene nel paese che era un istituto tecnico c'erano i ragazzi mi hanno detto state attenti perché questi ragazzi erano già dell'ultimo anno sono un po' vivaci una po' così e dopo alla fine ci hanno detto ma come avete fatto a stare zitti così e una cosa all'altra tutte le scuole ma io ho fatto qualche migliaio di ragazzi e ho sentito io qualche volta viene anche Egidio insomma abbiamo due o tre che veniamo ma di solito vado io Walter andavo con Aquilante poi lui si è dimesso adesso è presidente onorario diciamo andavamo nelle scuole e io raccontavo sempre questa storia e gli dico ma guardate che noi siamo siamo come i nonni che raccontano le storie perché noi parliamo con la pancia non è andiamo lì a parlare perché abbiamo letto su un libro abbiamo imparato a memoria la cosa perché vede che io vado salto di qua e di là e una cosa all'altra vi racconto perché poi mi viene in mente quella netto torno indietro perché la nostra memoria fa fatica a seguire un certo e loro sono molto insegnanti so che adesso quest'anno l'anno scorso non siamo andati però eravamo già prenotati in 4-5 scuole guardate che prossimo anno venite quando è ora veniamo ma andiamo volentieri io dico sempre guardate che per me quando vengo alla scuola vedo questi ragazzi lì mi si gonfia il cuore perché mi è rimasta la scuola proprio la passione della scuola mi piace tanto e qual è il messaggio che mandate quando vedete questi ragazzi questi studenti la cosa che prima cosa che io dico sempre alle scuole dovete volere bene ai vostri insegnanti gli dico perché voi vivete più con gli insegnanti che nemmeno con i vostri genitori se i vostri genitori hanno la fortuna di lavorare tutti e due non sono mai a casa o uno o l'altro o una cosa gli insegnanti ce li avete mezza giornata diciamo quindi sono mal pagati sono tante cose ma loro sono quelli allora i genitori vi insegnano un'educazione gli insegnanti vi insegnano a vivere vi preparano per un per un domani perché senza senza insegnamento senza studio non c'è la libertà la libertà non è diceva Gaber vivere sopra un albero no non è vivere capire conoscere perché se rimanete ignoranti non saprete mai distinguere il bene dal male perché purtroppo sui giornali sulla tv dicono tante posso dire cazzate si dicono no e voi dovete scegliere qual è la cosa giusta ma se non avete il cervello sveglio se non andate a scuola se non studiate queste cose non le potrete fare e poi vi dovete volere bene tra di voi noi che siamo stati nei campi profughi noi qui che siamo stati alle casermette di Borgo San Paolo e qui siamo come una famiglia parliamo il nostro dialetto le nostre usanze ma ci conosciamo tutti e diciamo è bello dico un domani io ogni tanto adesso no perché è un periodo che non si può andare poi avevo tre amici in collegio e beh adesso uno poverino ha l'Alzheimer l'altro è lì ma un altro che ci sentiamo tutte le festività mi comunica guarda che Boni è lì sulla sedia una cosa l'altra eravamo sempre assieme in collegio quindi è rimasta questa amicizia rimane l'amicizia è una cosa grande un'amicizia non c'è niente come ha detto Dante che l'amore cos'è l'amore ma anche l'amicizia è quella l'amicizia è una cosa che buca tutto buca tutto l'amicizia vuol dire non avere rancori noi non abbiamo rancore l'ho detto già l'altro giorno non abbiamo neanche rancore di quello che ci è successo non abbiamo rancore io non porto rancore per nessuno poi se qualcuno ha rancore con me perché io ho dato la casa perché abbiamo fatto per dargli la casa per dare tanti benefici pazienza dico no si accetta anche questo perché nella vita succedono anche queste cose cioè questi messaggi che nelle scuole io ho sempre li lancio queste scuole e poi un'altra cosa vi dico ricordatevi che non si canta l'inno nazionale solo quando gioca l'Italia perché noi quando c'è l'inno nazionale io c'ho sempre la mano sul cuore in qualsiasi momento perché mi sento italiano e quindi dovete sentire questa cosa purtroppo è quello che insomma queste cose questo è il nostro messaggio diciamo cerchiamo di di lasciare le chiedo magari un'ultima cosa insomma un'ultima domanda su Zara se torna se le piace tornare se è mai tornato io sono tornato fino all'83 non sono andato a Zara io c'ho cugini cugine a Zara logico essendo mia madre diciamo delle isole c'erano cinque sei cugini dall'altra parte anche quindi mi sono trovato anche con loro e insomma poi logico si perde perché si vive via siamo sempre stati buoni buoni rapporti diciamo io quando sono andato la prima volta non volevo andare avevo un magone solo il pensiero di andare là di vedere la mia casa che non è più la mia casa però un giorno i figli dicevano erano già grandi 14-15 anni l'altro aveva 13 e ma andiamo a Zara un anno le 83 sono andati a Zara gli ho detto appena arrivo a Zara si arriva da sopra e dico fermo la macchina sendo giù e bacio per terra e tutti e ho fatto così fermato la macchina sono tutti mi guardavano mi sono messo lì come musulmani mi sono baciato per terra poi sono andato a vedere la casa siamo stati ospiti da mio cugino perché sul nostro terreno questo cugino bravo diciamo ci sono i cugini bravi familiari ha costruito una villetta ci ha ospitato lì insomma sul mio terreno e va bene quindi è rimasto tutto così la prima volta che sono andato poi sono andato diverse altre volte con la mia compagna siamo andati appena possibile siamo andati all'isola di mia madre siamo stati 20 giorni e là quindi conosciuto un po' famiglia e sono andato a vedere mio zio che era ancora vivo e abbiamo contatti così cosa che è stato già detto per noi è facile dire cosa ci manca ci manca al mare certo che ci manca al mare ci manca al mare perché per noi il mare negli occhi Mileto che lei conosce ha scritto anche un libro col mare negli occhi perché tutti lui ha detto tutti quelli che ho intervistato mi parlano tutti del mare e allora io ho detto scrivo un libro col mare negli occhi e va bene il nostro mare Ichco che era un grande regista ha detto il più bel tramonto che io ho visto è quello della Dalmazia perché nella Dalmazia si vede proprio quando il sole tramonta quando voglio io ero sempre con la lenza con la tonia con la cassettina quando ero 4-5 anni ero lungo la riva a pescare quindi ma noi tutti ce l'abbiamo questo nel mare abbiamo tanta nostalgia vivere con la nostalgia è brutto è brutto è brutto perché tanti ci dicono eh ma anche tanti qui sono andati all'estero i migranti gli ho detto ricordatevi che emigrante è una cosa esule è un'altra cosa l'immigrante va per cercare fortuna che l'ha scritto anche Oliva questo qua l'immigrante va a cercare fortuna se trova e se fa fortuna torna diciamo a casa sua con la giacca nuova e via dicendo l'esule non torna e poi noi come italiani non potevamo fino a pochi anni fa a comprare in Jugoslavia in Croanzia a casa i tedeschi lo potevano comprare noi no e magari i vicinati avevano paura che magari andessimo a comprare le case e ricomprarsi insomma chi si va a comprare poi la casa diciamo ci vanno anche noi ci siamo rifatti una vita una cosa tradizioni figli nipoti dicendo uno non però come ho detto come si dice io pensate che io ho succhiato latte da mia madre fino a 22 mesi quindi di sangue slavo attraverso latte ne ho incamerato tanto poi mio fratello ho sposato una nata a Zara proprio a Zara nata proprio vicino a casa dove stavamo noi diciamo che fra pochi giorni è l'anniversario che è stato che è morto poi l'anno scorso a luglio 25 luglio avevo sposato una dalmatinska vi racconto non so se è fuori ma vi raccontare una storia di lo zio lo zio di mia cognata lui e suo fratello erano in bosco partigiani tutti e due io avevo una zia a casa con la nonna che viveva la casa grande viveva assieme noi avevamo una parte della casa loro dall'altra parte e alla sera questo partigiano veniva a trovare la fidanzata ebbene attorno al tavolo c'eravamo tutti c'era mio padre che faceva parte della prefettura quindi era già diciamo eppure si discuteva si parlava si faceva non è mai successo niente perché tra noi e quelli che abitavano attorno a noi c'è sempre stato un buon rapporto non c'è mai stato niente che io mi ricordo e quindi c'erano queste cose che succedevano e poi dopo questo suo zio ha sposato una diciamo che è venuta via cioè è venuta mia zia ha sposato poi mia zia che è venuta anche lei in campo di Tortona poi sono andati a Vicenza abitare in campo di Vicenza invece l'altro fratello è a casa sua a Zara c'è ancora eroe combattente una scritta sulla casa diciamo dove li hanno assegnato la casa logico non era casa di loro casa lasciata da altri però i rapporti erano sempre diciamo ottimi buoni io vorrei lanciare un messaggio che non è vero che noi odiamo qualcuno può odiare i slavi i croati una cosa o l'altra come i croati odieranno noi perché hanno subito io so cosa hanno fatto gli italiani perché mio padre raccontava quando veniva a casa vanno a fare il rastrellamento vanno a fare questo vanno a fare quello quindi si sapeva tutto quindi non possiamo dare la colpa del maledetto che ha dichiarato guerra la guerra e poi portano le guerre non portano che fame e terrore scantavano gli anarchici e Dio maledica la guerra ai ministri e tutti quelli che l'hanno inventato noi si cantava sempre si cantava con i vecchi fiumani che si cantava è la verità i grandi fanno le guerre e la gente subisse poi le guerre alle spalle sue morti e abbandono come dicevo 8 milioni e mezzo di euro europei che hanno scombusolato la propria vita che è dovuto andare di qua dopo una vita che viveva da quella parte andare di là perché era tedesco o perché era polacco o perché era cicoslovacco questo è la triste storia e io spero di portarla avanti il più lungo possibile finché finché c'ho forza un po' di memoria riesco a portare avanti io ringrazio voi perché a trasmettere quello che abbiamo dentro fa sempre piacere perché sapremo che da qualche parte qualcuno ascolterà e vedrà e rimarrà qualche segno quindi è come lasciare un seme che un domani senza volere andrà a finire dove c'è un po' di umidità e lì magari vennerà una piantina o verrà qualcosa niente io la ringrazio grazie a voi grazie a voi ci sarà possibilità di vedere qualcosa tutto tutto adesso noi abbiamo quando adesso prima mandiamo ai partner sì va bene a Braga che devono editare e fare e poi dopo ci rimanderanno le